Per un sorriso sano e senza imperfezioni, affidati a Dental Clinic Italia. Dental Clinic Italia, a Cava de Tirreni, in via Rosario Senatore 40, e a Salerno, in via Santi Martiri Salernitani 15. Infoline 089 44 30 34 e www.dentalclinicitalia.it Un sodalizio criminale specializzato nella clonazione di carte di credito attraverso svariate attività di phishing telefonico e di hackeraggio per ottenere fraudolentemente i dati personali e bancari dei titolari delle carte, una frode da oltre un milione di euro. Tre persone sono finite in manette con l'accusa di associazione per delinquere, indebito, utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, sostituzione di persona, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio ed autoriciclaggio. Sono stati militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, a notificare questa mattina nelle province di Salerno e di Avellino il provvedimento che dispone l'arresto in carcere di Giuseppe Manzi di Avellino, Alessandro Lombardi sempre di Avellino ed Emilio Ascoli residente nella provincia di Salerno. Perquisite le abitazioni di altre 10 persone, pure esse indagate a vario titolo per la stessa fine.